Questo è un evento unico che si terrà il 12 novembre alle Grotte di Stiffe dalle ore 10.30 alle ore 17.30. Si avrà la possibilità di guardare le nostre grotte e nello stesso tempo degustare le eccellenze d'Abruzzo e i nostri vini d'Abruzzo. Due eccellenze, Grotte di Stiffe e Cantine Vinicoli Abruzzesi che collaborano e per la prima volta, come ho detto prima, evento unico a livello europeo, da quanto mi dicono, è una gioia per noi perché dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo far vedere le nostre potenzialità, noi con il lavoro, la passione e l'amore per il nostro territorio abbiamo con questo evento confermato tutto ciò. Un'iniziativa molto importante per noi, è la prima volta che la proponiamo, speriamo non l'ultima, ma sicuramente no, dati i grandi numeri. È molto importante per la visibilità che ci sta dando questo evento, è molto importante perché stiamo crescendo sempre di più e ovviamente l'idea è quella di continuare a crescere e non fermarci qui e grazie a questo evento sicuramente riusciremo ad ottenere qualcosa di più.